Buonasera, benvenuti a tutti e per questo appuntamento conosco praticamente personalmente ognuno di voi e vi dico già che sarà un incontro molto, molto informale. Ecco, per me è veramente un onore oggi potervi presentare così in una versione un pochettino più ufficiale Andrea Amara. Chi mi frequenta da un po' sa che praticamente è un anno che stresso con questo Andrea Amara. Tanti di voi non ne conoscevano il volto ed ecco qua Andrea Amara. Vi chiedo un applauso per questo giovane ragazzo. Allora vorrei partire dicendo così questo, di come ho conosciuto Andrea Amara. Seguo il suo lavoro da un po' di tempo, l'ho cercato su Facebook, ho fatto un'opera diciamo di stalking per riuscire in qualche modo ad averlo qua, di incontrarlo fermo. È vero, perché dovete sapere che, come dire, dico sempre che la moda prima di essere vista va immaginata ed è proprio questo che fa Andrea Amara, immagina. Quindi quando ci siamo incontrati è venuto subito a gallo un pochettino questo discorso di mondi, di lui crea, interpreta, vede. In più c'è stato anche un discorso, ecco vabbè lo dico un po', fa un po' c'è posta per te, anche di affinità come dire. Quindi è con tanto piacere che vi mostro insieme a lui queste fotografie che rappresentano un pochettino i mondi che lui crea e rappresentano comunque un lavoro che sicuramente adesso andrete a comprendere, perché la cosa particolare, e fa un po' diavolo veste prada, noi vediamo delle cose, spesso poi ci vestiamo perché prendiamo spunto magari da un look che abbiamo visto in televisione piuttosto che in una pubblicità in un film. Ecco, questi look li decide lui magari tre anni prima, è chiaro? Quindi... Sembra un mostro descritto così. Ma sei un mostro di bravura. Diabolico. Di bravura. Allora iniziamo, vedrete tante cose, però ovviamente vorrei iniziare con quella che abbiamo un pochettino definito la fotografia, spero di riuscire a livello tecnico a farmi comprendere, la fotografia dell'orrore e Andrea ci spiegherà perché. Io ci terrei a fare una precisazione, non amo molto parlare di me, per cui abbiamo sinceramente trovato la soluzione anche un po' forse anche più piacevole per parlare più che di me, del mio lavoro, della professione, ossia comunque trovare un po' di foto che sono un po' magari backstage dei miei lavori e che possono rappresentare un po' i diversi mondi che appartengono anche alla mia professione perché comunque ha milioni di sfaccettature per cui un po' quello che c'è nel retro, la preparazione e quant'altro. Secondo me è un po' più carino affrontare il tutto in questo modo. Ah, qui siamo con Anna Tatangelo, penso una cantante che conosciate un po' tutti, con la quale ho avuto l'occasione di lavorare durante, per un festival di Sanremo, un progetto con il locatore Masini, esattamente lo scorso anno. Chiaramente è stata una sfida difficile lavorare con Anna, nel senso che comunque è un personaggio, anche se apparentemente magari non eccessivamente simpatico in più, mi includo tra quelli inizialmente, però è una persona molto fragile che cela le sue insicurezze anche attraverso il make-up, cioè nel senso comunque una ragazza giovanissima, bellissima, senza trucco straordinaria e che ha la capacità di mascherarsi sinceramente in questo modo, per cui è stata veramente una grossa sfida riuscire a convincerla a far sì che lei si piacesse in una versione che è stata quella abbastanza difficile da raggiungere, ma che comunque poi dopo in certi casi ti dà un po' di soddisfazioni come quella che potremmo magari andare a vedere, perché lei da quando aveva 16 anni si è sempre truccata in maniera piuttosto eccessiva. Come si può ben vedere, non sono molto bravo. Per cui sono riuscito per questo progetto a cambiarlo un po' il look e a renderla più fresca, più giovane, più attuale. Non è lei, mi sembra, no, sdoppiata. Come si fa a riandare nella pagina iniziale? La tecnologia. Matte, vieni tu dai. E ma no, perché sennò mi prende tutti gli altri. Premi ESC. Io ho un Mac, ragazzi, non so usarlo questo. Dai, vieni su. Un grosso applauso a Matteo Brizio. Vieni su così, dai, perché così facciamo più veloce, almeno parliamo. Vedendo le immagini. Abbiamo bisogno di un supporto tecnico, Brizio. Vieni, sediti. Buonasera. Buonasera. Prendo la sedia che è qua. Torna la schermata. Di la cartella? Sì. Mi fa le forze fare vedere questa. Questa qua? Sì. Allora, diciamo che è un po' un prima e dopo. Come potete vedere, sembra praticamente un'altra persona e di sicuro decisamente più attuale. Questo è un progetto al quale abbiamo lavorato. Cioè, non so se siete concordi con me, perché poi comunque è una visione assolutamente personale. Non si può dire, sicuramente così, sembra quasi una star di una liura internazionale, vista in questo modo. Piuttosto che io ti pregherei di tornare a quella di prima. E vi posso garantire che dopo quando riesci ad ottenere questi risultati, con molta fatica, allora la soddisfazione. Notate un po' di differenza? Possiamo anche far vedere, ad esempio, se vai nell'altra schermata, un po' di quello che è il look Sanremo, che tu hai creato anche per anno. Nel senso che abbiamo addirittura proprio il prototipo di... Scendi perché sono andato a... Sì, chiaramente quando hai questo tipo di progetti così un po' importanti, cioè nel senso noi siamo stati chiamati proprio io e Luca Tomasini a progetto... Un cambiamento suo radicale legato al progetto televisivo Sanremo e non solo, per cui comunque Sanremo include anche l'idea dell'uscita di un disco, eccetera. Quindi si voleva... Sì, questa è una giacca che abbiamo fatto realizzare apposta con lei, questo era un transfer di pizzo e silicone che abbiamo fatto realizzare. In realtà c'è la B perché l'album si chiamava Bastardo, era il singolo che presentava, ma l'album che presentava, cioè il titolo dell'album era proprio Progetto B. Per cui era un po' una sorta di promozione di tutto. E chiaramente quando c'è questo tipo di progetti di una certa importanza, tutto si realizza con riunioni su riunioni, notate di creatività. Di solito l'uscita di un progetto così legato al mondo della musica, di una manifestazione del genere, è legato anche alla presentazione quindi dell'album. Quindi in uscita, dopo la Kermesse a Remesi in questo caso, c'è già in uscita un video che aveva realizzato prima, quindi è proprio un progetto nella totalità. Ecco, questo invece poi è di per sé l'outfit indossato da Anna appunto per una delle sue serate a Remesi. Tanto criticato ma anche tanto piaciuto e poi ci sta anche, insomma, voglio dire. Di sicuro se ne è parlato parecchio. Anche andare, visto che stiamo parlando così un po' di celebrities, passerai a questo punto, visto che stiamo parlando di questo stilista, di Gatano Navarra. Gatano Navarra è lo stilista che ha realizzato i capi apposta per Anna, oltretutto è un grande amico per cui mi è capitato spesso di collaborare con lui e magari di farmi realizzare capi ad hoc ispirati dalle sue collezioni ma modificati per i personaggi a seconda delle occasioni ai quali avrei voluto indossare. Sì, questo è un capo, infatti questo è un disegno di uno schizzo di un bozzetto disegnato sempre da Gatano Navarra, come vedete c'è la firma al lato, che riproduce, vediamo se riconoscete il personaggio che riproduce. Viene in mente qualcosa, qualcuno, vi ricorda qualcuno? Alzata di mano, facciamo vedere anche l'altro. Eh? Bravo, si vede che è il ragazzo del settore. Dove? Ah, vabbè, allora sei suonattento. Io ho detto, da bravo stilista, sì, ho avuto anche la fortuna di lavorare con Lorella, che fra l'altro è una professionista di livelli altissimi come i pochi ce ne sono in tv, oltre che comunque un mito della tv italiana, per cui sempre molto gratificante. Ho lavorato con lei per Domenica Inn, ho avuto la possibilità di poter seguire il suo look. Ecco, quello infatti era il disegno, il bozzetto precedentemente creato, e questo è proprio l'abito realizzato poi dopo per una delle puntate, indossata appunto da Lorella. Donna straordinaria, a mio avviso. Ah, qui un'altra Lorella, un po'... Anche con lei, insomma, a lavorare è stato piacevole, anche riuscire a portarla in una dimensione un po' diversa dal suo solito standard. Non è stato poi così difficile, poi comunque Lorella è veramente una professionista straordinaria. In realtà un po' quello che dico sempre io, soprattutto quando si collabora con personaggi, con celebrities, così eccetera, e quindi non sono modelle che in quel caso lì, insomma, diventano un po', nel caso della moda, un po' delle tele bianche, sulle quali tu puoi tessere un po' quello che desideri. Nel caso in cui ha a che fare con un personaggio si tratta un po' di cercare di valorizzare il loro carattere, magari finalizzato a quell'evento, cioè in questo caso lei era la signora della domenica pomeriggio, per cui sicuramente non avrei potuto eccedere il look, magari, non so, provocanti, piuttosto che comunque con, insomma, chiamiamoli un po' spinti, audaci, anche un po' troppo modaioli se vogliamo. Oltretutto non un personaggio sul quale è possibile fare una roba del genere, anche se Lorella è da professionista, da ballerina, da attrice qual è, comunque riesce a incarnare qualsiasi tipo di donna. Però la cosa bella è quando comunque loro indossano con entusiasmo le cose che tu le proponi, cioè gli abiti, gli outfit che tu le proponi, e quando le indossano, come dico io, si sentono fighe, perché lo vedi proprio che si trasformano in faccia, cioè nel senso interpretano subito, lo capisci subito quando si sentono al loro agio e percepiscono magari il tutto con una novità, ma con entusiasmo. Il rapporto estaurato un po' con le celebrities è un po' anche basato sulla fiducia, che non è la fiducia nel senso, chiaramente, ti confido un segreto su che lo mantieni, la fiducia del fatto che tu magari instauri un'alchimia e si fidano anche del tuo gusto, perché in realtà si tratta del tuo gusto e che non è di sicuro universale. Quello che dico io sempre diventi una sorta di psicologo quasi, perché comunque devi andare un po' a capire quali che possono essere anche un po' i punti deboli anche fisici, non solo, c'è chi vuole valorizzare il seno, c'è chi ama nascondere il seno, c'è chi ha la gamba corta, c'è chi ha tutta una serie di proporzioni anche che vanno studiate, ma che oltretutto sai a priori che magari sono dei loro punti deboli e che magari li destabilizzano, nel senso, sai, quando vi capiterà di sentirvi che dici no, qua c'è il braccio ciccio, quello così. E di solito nei personaggi è tutto un po' estremizzato, poi probabilmente lo saprete, la tv di solito si dice che dà una taglia in più, per cui cosa vuol dire? Devi stare anche un po' attenti a certi abiti, magari dal vivo a non a resa, la resa, in questo caso stiamo parlando di tv o comunque video, può essere tutt'altro, come invece certi abiti o certi outfit che magari visti così dal vivo non gli dai, come si suol dire, due lire, invece poi hanno una resa sia fotografica che video straordinaria. Ecco Andrea, visto che ci siamo, possiamo continuare un po' questa carellata di bionditudine e a questo punto andrai su Paola Barale. Paola è una grandissima amica, un personaggio che adoro, un personaggio col quale mi diverto a lavorare, perché oltre ad essere meravigliosa a me, stupendamente bella, è una creatura con la quale riesco a avere tantissime soddisfazioni, oltre ad essere amata da un punto di vista di stile, dalle donne ma anche dagli uomini e soprattutto dalle aziende, perché è stata anche la fortuna un po' dalle aziende, io me ne rendo conto, dicevo oggi, facevo oggi a Cristiano questo esempio. Adesso magari qui abbiamo portato delle foto di backstage o comunque di collaborazioni mie con personaggi, con celebrities. Ne vediamo un po' intanto che lui parla della Barale. Ne vediamo un po', però mi capita di lavorare con tanti personaggi, magari anche fine a se stessi, a servizi fotografici. Spesso e volentieri faccio ordine, ci faccio richiesta agli showroom, alle aziende, insomma, non so, di poter avere quel determinato paio di scarpe piuttosto che, e non tutte le aziende sono disposte a collaborare con tutti i personaggi, e ci sta anche. Paola è una delle poche, forse l'unica, in cui tutte le aziende riescono a fornire tutto, con un entusiasmo straordinario, addirittura a realizzarmi dei capi apposta che magari non sono neanche presenti in collezione, perché Paola è una che comunque, forse anche televisivamente, per quanto riguarda il discorso legato alla moda e tutto, è stata innanzitutto, non so se lo sapete, la prima a indossare la moda realizzata dagli stilisti in tv, nel senso che finché lei non ha sdoganato questo concetto che fu con Blu Marine e Dolce Gabbana, in realtà c'erano dei costumisti in tv che realizzavano gli abiti apposta. Lei è stata la prima a fare questa connection molto forte ai tempi di Buona Domenica, forse molti di voi eravate molto giovani, ma che ha lanciato un po' questo sodalizio tra gli stilisti e le celebrities della tv, ormai quasi inflazionato. Ecco, possiamo anche parlare un po', questo che avete visto è un po' il mondo di Paola Alapà, Alatalpa, no? Però abbiamo delle foto anche molto carine che sono dei lavori magari non televisivi, ma più legati a, come mi dicevi, un discorso meno, diciamo, commerciale, ma più legato a delle fotografie che lei fa, sia per, diciamo, molto più forti, come ad esempio quella che riguarda questa che è assolutamente un'anticipazione, un regalo che Andrea fa oggi a questo pubblico. Sì, in realtà questo è un lavoro che ho fatto con Paola circa un anno fa, una Paola un po' inedita, nel senso che lei non è solita truccarsi in questo modo, non è solita mostrare scollature audaci come in questo caso, e in questo caso non si è notato, è veramente retro, vestita con super abiti vintage, capelli, tinti di rosso, perché in realtà è un backstage di un film nella quale lei interpreta una cassiera di un film del cinema d'essere, una visione quasi un po' felliniana, un film che sarà in uscita il 6 dicembre, perché adesso lei sta sperimentando questa nuova carriera parallela di attrice, devo essere sincero. Sì, queste sono proprio foto di backstage, sinceramente scattate da me, io trovo che sia comunque sempre straordinaria. Se avete delle domande da fare, ragazzi, sono molto contento. Ah sì, questo è un progetto assolutamente pop. Abbiamo fatto realizzare apposta questo lavoro per un magazine spagnolo, perché è famosa anche lì, abbiamo fatto realizzare queste scatole a dimensione naturale della Barbie, come vedete, con la scritta Paola, abbiamo realizzato questa sorta di Barbie umana, artezza greggigante, non so se vi ricordate che nelle scatole delle Barbie o comunque nei giocattoli di solito c'è scritto più 3 in fondo, il che vuol dire da, esatto, idonea l'utilizzo dai ragazzi, dai ragazzi, dai bambini da 3 anni in su. Beh, in questo caso è un più 18, quasi vietato ai minori, però tutto in assoluta pudicizia e cazzità. Ecco, lei qui come se volesse fuoriuscire da questa scatola. Ecco, visto che vediamo queste immagini, direi che possiamo anche passare un pochino al mondo X-Factor, visto che qua abbiamo più il mondo della rappresentazione, ecco, anche un po' teatrale, quindi delle robe abbastanza forti, un po' eccentriche. Bella scuola, perché ho avuto la possibilità di poterlo realizzare, sono stato fatto lo style X per X Factor, l'ultima edizione Rai, lavorando quindi con Luca Tommasini, fra l'altro della durata lunghissima di un programma, all'epoca durava tre mesi e mezzo, mi tenevo impegnato quattro, in cui non avevo la possibilità di poter fare nient'altro, però ho grandissime soddisfazioni anche di lavorare con personaggi importantissimi, internazionali, quali Katy Perry in questo caso, e comunque con dinamiche e performance da MTV Awards, per renderci conto, perché comunque Luca, oltre ad essere un amico, è un perfezionista, oltre che un professionista ad altissimo livello, qui c'è stato sempre un'inflazione in momento da Tangelo, è stata un'esperienza straordinaria, di sicuro. Ecco, qui Natalie Gianni Trapani, che poi fu la vincitrice, lei è anche stato un bel processo di cambiamento, perché è entrato, come dicevo io, sembrava, senza che qualcuno me ne voglia, ma se me lo dicevo, sembra sempre una ragazza dei mercatini freak che vende gli incensi, perché comunque lei ha questa attitudine un po' slavatona, un po' da fricchettona, alternativa, eccetera, ecco, comunque alla fine lì è un programma che ti deve formare, è una pop star. Per cui il solito discorso, il solito concetto, fra l'altro lei non riusciva ad andare sui tacchi, diventa proprio una vera e propria formazione, aveva quattro peli in testa. Ma anche alla finale lei non aveva indossato i tacchi? No, allora, io in realtà, dopo ho capito che comunque non la si può violentare, perché poi una volta, nel momento in cui le mette i tacchi, ma alla fine cammini con i piedi 10, e 10 e 10, è meglio che tu non le metta. Perché comunque... Però ho detto ciò, ho cominciato a farle amare le gonne, gli abiti, i capelli lunghi, il trucco, chiaramente, cioè non è che la faccia diventare una vamp, perché non è nelle sue corde, non è nel suo stile. Lì si tratta di riuscire ad identificare un'immagine che possa essere congeniale per lei, e cercare di portarla avanti. Lei mi odiò quando io gli feci mettere le extension, lunghi, lunghissime, mi odiò. Circa una settimana dopo mi ringraziò, poi l'ho rincontrata a Sanremo con le extension, e mi ha detto, grazie, ormai non riesco più a farne a meno. Perché era diventata un po' una sua forza, si sentiva probabilmente più figo. Ecco, qui io, con tutto il gruppo di ballerini di X-Factor, grandiosi, e con i costumi deliranti, che insieme a Luca Tommasini decidevamo di creare. Questo non so se si vede, è un lampadario in realtà proprio alimentato con delle dynamo, quindi praticamente i ballerini, chiamiamoli tale, ma in realtà non è che riuscissero tanto a muoversi, diventavano quasi più delle installazioni viventi. Molto divertente il tutto. Questo fa ridere. Questa è la puntata finale, con il premio, questo durante un nero pubblicitario, queste tute realizzarle è stato un delirio, ma avevano un effetto scenico sul palco. Tra l'altro, queste due ballerine avevano due micro buchi, agli occhi non vedevano niente, perché le luci... Ecco, magari ti faccio una domanda, tipo un look del genere, un abito del genere, il tempo di realizzazione, anche un po' sapere come avviene, nel senso c'è una richiesta, come succedeva? Cioè c'era la richiesta di creare una situazione, quanto tempo prima, rispetto a poi il tempo poi della messa in onda, dello spettacolo? Beh, allora, diciamo che proprio nel caso di X-Factor, c'erano, io e Luca stavamo veramente le notti a lavorare e a creare le performance ad hoc, in cui nulla era lasciato al caso. Spesso e volentieri, le cose venivano tutte sovvertite all'ultimo minuto, per cui, diciamo che c'erano dei tempi di realizzazione, circa di una settimana, ma era tantissima, la poteva provare dai cambi dei ballerini, magari costumi speciali per le performance, e costumi speciali come in questo caso. Chiaramente nel caso della RAI c'è una sartoria storica, assortitissima, comunque costituita da tanti elementi, ma c'era veramente tantissimo lavoro, si lavorava tanto anche la notte, soprattutto nel mio caso. È stata dura, ma ripeto, è una bellissima esperienza. E la diretta, ragazzi, i tempi della diretta sono folli. Ecco, magari uscendo, perché questo è un po', abbiamo parlato delle celebrities, abbiamo visto un po' queste cose così, del mondo televisivo qua. Sì, io, Luca e Anna. Qui eravamo al backstage della realizzazione del shooting fotografico che avete visto, chiamiamolo così, del cambiamento. Sì, della copertina anche. Durato nei tempi di come un gatto intangenziale, nel senso che comunque ultimato il progetto è ritornato un po' più o meno sul look iniziale. Quindi possiamo vedere qualche cosa anche un po' proprio di situazioni di show. Tra l'altro vogliamo anche dire oggi sei qua, ma domani sarai. Domattina un aereo alle 6 da Milano per andare a Tokyo, adesso qui c'è una, sembra una ragazza giapponese. Un richiamo. Un richiamo. Vado a fare uno show per l'Oreal, la possibilità di poter collaborare con questa azienda comunque famosa in tutto il mondo, che organizza eventi in tutto il mondo di stile, di un certo livello. Questo infatti fu un evento al quale ho avuto la fortuna di poter collaborare per la realizzazione per l'anniversario dei cento anni dell'Oreal a Parigi. Un evento di richiamo internazionale straordinario in cui ho collaborato all'realizzazione di questo show. C'è stato circa due mesi di preparazione tipo con tre riunioni a Parigi. Cioè nel senso quando ci sono eventi di un certo tipo comunque veramente la preparazione di tutto è abbastanza particolare e lunga ma dopo la fine è soddisfacente. Questo abito pensate che pesava tipo quattro chili in realtà sono dei pannelli, sono delle tende che ho fatto dipingere e che ho dovuto montare addosso la modella la quale era esile e gracile e non riusciva a stare così più di due minuti perché i pannelli pesavano fra l'altro qui sono tagliati ma arrivavano fino a terra e per cui la poveretta praticamente era finché non entrava stava seduta con le braccia così tra due sedie perché se stava a terra anche così comunque le pesava. Abbastanza particolare quando a volte si dice la bellezza o comunque la particolare non è sinonimo di comodità. Sì? Vado io, vado io. Sì, allora io sono Stefania Fatta di Due Mosche Bianche ovviamente ti faccio una domanda che poi interessa penso molti di noi visto che siamo diversi artigiani qui tu ti affidi per i tuoi lavori preferisci o meglio affidarti a grandi marche a grande grifo magari della moda o ti affidi anche a piccoli artigiani che magari non so possono aiutarti o collaborare con te in diverse occasioni e se sì come facciamo eventualmente a proporci? Assolutamente sì cioè nel senso non è che preferisco vengo attratto da ciò che mi conquista e che penso che possa essere valido per quel tipo di occasione per cui ad esempio adesso ti faccio un esempio non ultimo quello appunto di questo show che vado a realizzare che andrò a realizzare a Tokyo la prossima settimana praticamente parto domani ma ieri proprio infatti sono arrivato ieri sera per cena perché ieri ho chiuso i bauli come si suol dire nel senso che comunque chiaramente quando ho fatto questo genere di lavori anche abiti di un certo tipo comunque in ogni caso sono tutti assicurati e partono con dei bauli speciali in realtà la ricerca che ho fatto per questo chiaramente si fanno anche lì delle riunioni si decidono dei layout gli outfit ci sono delle tendenze di quadri da seguire insomma c'è tutto uno studio una ricerca che va fatta a monte sulla base della quale poi dopo io faccio una ricerca in questo caso qua io sì ho fatto realizzare delle cose da artigiani chiamiamole così e comunque da giovani creativi e ho preso anche degli abiti di griff di marchia ma che poi dopo cerco di estremizzare qualora non lo fossero tale o comunque arricchirli di accessori fatti di un certo tipo qualora penso che vada fatto in quel modo lì perché ripeto è sempre una mia visione delle cose in questo caso ma detto ciò proprio per farti l'esempio ho preso dei giovani creativi della Naba che è questo istituto di moda probabilmente conoscete di volina fra l'altro vedo una chicca visto che stasera c'è la Pina la mamma della Pina che è un personaggio straordinario è la direttrice di moda della Naba non so per chi lo sapesse se vi possa interessare la cosa detto ciò io avevo visto una sfilata di una presentazione che hanno fatto loro questi giovani studenti creativi ho visto degli abiti straordinari io ho chiesto appunto di poterne fare uso e loro me l'hanno concessi e li porto con me a Tokyo quindi comunque loro erano molto contenti perché insomma di far parte di un evento del genere io moltissimo mi piace moltissimo lavorare con giovani creativi assolutamente cerco di creare un mix cioè nel senso non è l'idea di una griff certo magari tu dici una griff magari non so prestigiosa che magari ti faccio un esempio comunque Cavalli fa dei ricami straordinari sui ricami e comunque anche Dolce Gabbana fanno dei ricami che sono magari molto anche costosi rispetto a un piccolo artigiano riesce quindi magari se devi prendere dei capi che luccicano è più facile che tu riesca a trovare da queste aziende è fatto in un certo modo però per me la griff non è sinonimo di necessario di qualità o di bellezza poi ripeto bello ciò che è bello non è bello ciò che piace il solito discorso cioè no anzi il contrario è tutta questione di alchimia di emozioni e di gusto personale quindi se avete delle cose da proporre ben venga assolutamente succo allora questo sì chiaramente faccio anche insomma lavoro anche un po' per testate per magazine Vanity Fair Key Visionarios V Magazine anche collaboro con parecchie testate straniere e questa è un po' la versione insomma un po' più moda tra l'altro mi piace questa era la versione questa mi ricordo che era un servizio ispirato a una visione per cui vedeteci vedeteci Giovanna d'Arco per cui dici dove riesci a vederci in realtà erano tutto un po' armature corazze una visione una visione mia personale della cosa mi sa che riusciamo ad andare avanti facciamo vedere così ecco vedete c'erano tutti dei pezzi di armatura anche sopra poi fra l'altro io l'ho fatto realizzare con pezzi di cuore sacro queste sono delle strutture che fra l'altro fa un costumista teatrale di Napoli il sottogonna realizzato tutto in pelle che io ho mischiato poi con questo cos'era un abito di Gautier però per dirti mi piace parecchio utilizzare anche i pezzi di artigiani che mi propongono piuttosto che da giovani realtà da giovani creativi ecco sì questa struttura molto particolare anche Capelli pensate il parrucchiere con cui ho collaborato che fra l'altro il parrucchiere di Anna Dello Russo che è di altissimo livello oltre che un amico Andrew Guida che lavora con tutte le testate Vogue Giappone Vogue Italia tutti i Vogue del mondo a un certo punto voleva fare questa struttura scusate è andato fuori ha staccato un pezzo di un ramo di un albero e ha realizzato questa cosa sì tutta ricoperta di capelli perché a un certo punto eravamo fuori che stavamo fumando una sigaretta fuori dallo studio c'era un pezzo di ramo per terra e ho detto ma caspita però sarebbe bello poterlo fare anche con quello così perché a volte veramente uno si fa un'idea di una cosa e molte cose nascono così anche sovverti un po' tutto e questo insomma si parte ancora del servizio sicuramente molto estremo a questo è un video che ho realizzato perché c'è anche tutta una parte la parte bella del mio lavoro che spesso si può essere spaziare insomma la fortuna di collaborare con artisti musicali con attori con attrici con modelli modelli lei è una modella ma in realtà fa parte del backstage di un video che ho realizzato con una storia internazionale che in realtà è un produttore musicale che è David Morales un DJ famosissimo che fa oltre a fare i suoi album fa un remix per artisti del calibro di Kelly East Skin Madonna Maria Carey eccetera questa è la realizzazione backstage di un suo video che è stato curato da me all'interno del quale c'erano questi quadri con queste modelle insomma che creavano delle situazioni surreali all'interno di una dark room di un locale un locale tipo per scambisti è stato girato ma nel senso che la location era piuttosto insolita ma in realtà era tutto super glamour come potete vedere nel senso c'era questo percorso fatto di queste scatole buie e lui girovagava come se fosse un labirinto e succedeva che c'erano delle visioni di donne assolutamente fashion ecco questa molto particolare a me piacque molto questa idea sicuramente folle sono tutte farfalle non vere non imbalsamate ma realizzate di piume incollate e cuci apposta sul corpo e sulla testa adesso in base c'è una struttura ma per montare questa storia qua ci abbiamo messo tipo due ore e persino poco diciamo e questo è David sì in un momento di set volete chiedere qualcos'altro curiosità tutto tace tutto tace arriviamo al mondo del blog di ciò che stai facendo ecco possiamo anche queste sono da vedere quali si è capitato anche privato più di una volta donne che magari si sentivano voglia di un forte cambiamento donne chiaramente più donne un forte cambiamento di solito veniva da momenti di insoddisfazione i personali legato a un momento di sfera affettiva o comunque di cambiamenti sul lavoro tendenzialmente devo essere sincero erano donne un po' da fare o comunque donne comunque ben inserite nel loro ambito professionale ma che non si sentivano più gratificate come donne allora mi hanno chiesto di intervenire radicalmente facendo una bella ripulita al guardaroba e lavorando su loro stessi proprio sull'immagine quindi l'altoio dei capelli piuttosto che al cambio di colore tutto e l'impostazione di un look nuovo diverso sì assolutamente mi è successo anche con una principessa araba che è stata molto divertente anche la cosa più divertente ancora è stata il fatto che comunque in realtà non in molti potessero vederle perché utilizzavano il chador per cui lei ha voluto cambiare ma in realtà ha voluto cambiare per suo marito e quella è stata abbastanza particolare ecco questi sono altri miei lavori che ho realizzato per un magazine francese sempre moda e qui mi piaceva era tutto un filo conduttore che era un po' lo sportswear però riunito a questi pezzi couture tutto legato da questi motivi di trecce e di funi come vedete c'erano queste funi che girano un po' per tutto il servizio quelli sono ad esempio elati quelle elate utilizzate come bracciale in realtà sono dei parastinchi da calcio della Nike sì cioè in essenza a me piaceva anche mi piace un po' utilizzare far diventare degli accessori delle robe che in realtà non lo sono comunque dare un uso e destinazione diverso da quello che sarebbe di consitudine ecco sì e mi piaceva sempre un po' era sempre un po' riproposto questo motivo della fune nei capelli e come vedete nella fune di per sé sì altre foto sempre del servizio a volte ritornano mi state annoiando? vediamo un po' queste cose qua un po' più recenti di sfancurati la pina la pina versione donata della Versace la chiamo io nel senso che l'anno scorso abbiamo realizzato la pina fra l'altro è una grande amica la vedrete stasera oltre al fatto una grande amica che stimo tantissimo come professionista ma soprattutto come persona l'anno scorso lei ha condotto questo programma su DJ TV oltre a fare il suo programma radio e tante altre cose questo programma che si chiama Queen Size in cui lei all'interno di questo letto futurista aveva la possibilità di poter ospitare determinati ospiti del mondo dello spettacolo letteratura musica eccetera e quant'altro con delle domande riverenti ricercava di mettere un po' a nudo e le abbiamo studiato apposta degli abiti infatti per lei che ci ha realizzato questo stilista in forte ascesa che si chiama Fausto Puglisi siciliano tra l'altro come me che è famoso diciamo quest'anno ha vestito Madonna no Belen quando è uscita con la farfallina l'abito di Belen della farfallina è suo per intenderci ha realizzato degli abiti per Madonna per il Super Bowl e sta facendo tante altre cose e niente qui mi ricordo anche con la Pina a un certo punto ho detto dai facciamo un look un po' diverso giochiamoci divertiamoci come impostazione per questa storia qua e quindi le faccio attaccare anche lei delle extension lunghissime e bionde tipo Donatella Versace infatti le ho detto questo si chiama Luke Donatella si Super Gold poi abbiamo accessoriato un po' alla Reperona perché lei ha quell'estrazione lì però questa è proprio l'idea di creare un progetto fine a se stesso a quello che è un programma per cui c'era un comune denominatore che era quello ecco qui si qui sono io che faccio il Circenze in realtà qui sempre con la Pina e il radio siamo io la Pina Diego Anna Dello Russo che spero voi che siete del settore più o meno la conosciate che ultimamente che possa piacere o meno ma comunque è un personaggio molto forte della moda e lei in realtà è la direttrice di fashion di Vogue Giappone ma un'icona di stile e tutti gli effetti quella che io indosso in realtà è la coroncina che ho staccato ad Anna dalla testa e questa è una cosa molto divertente che abbiamo fatto a Radio DJ durante il festival di Sanremo quest'anno praticamente abbiamo fatto una votazione con tanto di schede come se fossero giurati tutti gli effetti in diretta in streaming e in diretta radio proprio vestiti da cerimoniosi quindi eleganti come se fosse una diretta noi votavamo e quant'altro è stata veramente divertente qui siamo di Anna fra l'altro in Fausto Puglisi abito centurione e vabbè qui tra le baraccone siamo alla frangetta sì sì qui c'era sempre quella serata lì io Diego ed Andrew lui è il parrucchiere di cui vi parlavo prima che ha realizzato quelle sculture straordinarie nella testa del lavoro che ho fatto mi piace anche un po' divertirmi sono un po' pagliaccio dentro e allora anche questo è il segreto del digerire un po' il lavoro con la fortuna di fare un lavoro che mi piace ma guarda lui regalano tutto cosa crea guarda frequento i negozi nel momento in cui è la possibilità di farlo c'è nel senso mi piace moltissimo la ricerca e mi piace moltissimo andare nei negozi a comprare c'è nel senso io non sono un fan dell'online dell'acquisto online poi faccio le mie ricerche perché comunque ormai i siti e i blog insomma sono il veicolo per poter diciamo esporre nel miglior dei modi detto ah bene questo scusate questo è un momento mio durante un servizio fotografico pausa a biocchi da 12 minuti 17 minuti si riparte sprint le chiamo disco nap sono dei micro sonnellini da niente che mi rinvigoriscono no detto ciò in realtà non mi ispiro cioè nel senso vado vado molto a sensazione c'è mi piace molto mischiare pezzi compro i pezzi che mi piacciono e poi li mischio devo essere sincero una parte una parte bella del mio lavoro è che comunque molte aziende ti regalano i vestiti devo essere sincero comunque ci sono delle agevolazioni nel settore come magari chi non so il costruttore è più facile comprarsi le case o comunque spendere meno la stessa cosa per me per cui spesso e volentieri succede però comunque nonostante tutto ho una passione sfrenata per la moda il che non vuol dire che vado pazzo per forza per l'ultimo modello di piuttosto quello perché sono veramente sono sono matto dei mercatini ad esempio cioè poi mi piace mixare non mi ispiro spesso e volentieri poi al mattino mi sveglio tipo oggi mi sento grigio domani posso sentire fucsia e quant'altro poi sai il discorso dello stile spesso e volentieri penso vada anche un po' per voi nel senso un po' per tutti poi c'è chi l'indossa un po' come l'inizio comunque c'ha un suo stile determinato ma adesso nelle donne soprattutto spesso e volentieri capita di avere fasi cicliche in cui magari la fase leggings la fase jeans la fase abitini confermate cioè ci sono periodi va a periodi a volte veramente sembra quasi ciclico un periodo poi ti compri l'abito che ti sta da dio e ti arriva in fissa per gli abiti che magari fino a quel momento lì non avevi minimamente tenuto in considerazione è un po' così è un po' così anche per l'uomino è un po' così anche per me anche la fase tuta che però tu riesci a rendere estremamente fashion no ma non sono l'unico no ma io la fase tuta l'avevo con un totale scazzo già metti una tuta con un maglione di cashmere ti cambia tutto ah questi sì uno degli ultimi lavori fra l'altro anche questo è una preview perché questi qua sono gli ultimi scatti che abbiamo realizzato con questo fotografo che si chiama Roberto Rapetti per il blog della Pina perché la Pina è un blog che fra l'altro seguitissimo si chiama tuttasbagliata.com già il nome dice tutto in cui non c'è la pretesa di dettare lo stile ma in puro secondo la sua visione delle cose che è tutta sbagliata all'interno del quale io ho il mio spazio chiamiamolo così che si chiama SOS Style or Suggestion che in realtà ha una rubrica di indossati in tutti gli effetti come se fosse un redazionale da giornale in questo caso questa è una preview anticipazione di quelli che saranno un po' dei look in prossimità delle festività natalizie e quant'altro in cui a Didascalia mettiamo un po' in questo progetto a me piace molto l'idea di mixare dei pezzi low cost quindi un po' di basso cost accessibili a tutti a pezzi griffati anche un po' molto particolari che diventano un po' l'oggetto di desiderio delle donne tipo in questo caso Scarpi di Laboutin da 1000 euro e abito di un'azienda che si chiama Coraline da 79 euro per dire piace molto creare fra l'altro la cosa carina di questo blog è che mettiamo a servizio ad esempio vedete c'è una delle bottiglie di champagne rosè eccetera in realtà mettiamo anche non so il link cerco di mettere a servizio anche delle cose tipo non so troverete il link della carta da parati con magari delle suggestioni simili di altre carte da parati che magari potete trovare piuttosto che ad esempio in questo caso un guanto di Burberry abbastanza costoso però trovate anche il link che vi porta direttamente all'acquisto online di una soluzione alternativa low cost per cui insomma un po' le portate di tutti con un po' di ricerca di immediato e anche di acquisto online che insomma un po' oggi è la comunicazione di oggi e questo sì sempre uno scatto di quel servizio lì che ancora non è uscito e che insomma si vedrà dicembre carini sti cappelli vi piacciono? questa la realizza una creativa brasiliana di Milano ho visto ho visto le sue creazioni ho detto assolutamente bisogna fotografarle per cui vi ripeto sono molto aperto e molto predisposto a questo genere di cose volentieri 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 ma molto volentieri direi che vi ho raccontato parecchio avete qualche altra domanda da pormi curiosità dubbi perplessità io già che sono qua come detto il tuo lavoro si divide in diverse categorie cioè prendere un personaggio pubblico e curare la sua immagine curare l'immagine di ballerini sul palco di X Factor o un video musicale magari un film uno spettacolo teatrale però credo che lavorare proprio su un personaggio come può essere la Tatangelo o la Cuccarini e rivedere tutta la sua immagine forse è un lavoro più psicologico come hai detto tu rispetto all'altro che forse è un lavoro più creativo e artistico ma quanto però immagino anche che lavorando su un personaggio pubblico possa essere difficile riuscire a interpretare al meglio o individuare l'immagine che poi bisognerà seguire e creare quando questa immagine fallisce o fallisce perché non è l'immagine adeguata o perché la Tatangelo in questione non ha saputo portare avanti il concetto è un fallimento o è soltanto la fine di quel periodo in cui la Tatangelo si doveva interpretare quel mood e allora va bene perché ora è tornata a vestire altri panni o si non so se non mi sono molto spiegato comunque perché ho capito cosa vuoi dire assolutamente se va bene così perché era una cosa temporanea oppure è un fallimento perché lei è tornata sui tuoi passi torna a compiere errori ma poi errori sì secondo me forse anche secondo voi nel senso l'avete vista nel senso non per questione del mio lavoro ma sì anche per quello diciamoci la verità però nel senso sicuramente era molto più valorizzata nell'ultima versione che siamo riusciti a creare sicuramente è più attuale anche molto più bella a mio avviso detto ciò sì è una sorta di fallimento personale poi fino a un certo punto perché comunque da lì capisce anche un po' il fatto che magari un personaggio possa essere insicuro e sentirsi anche un po' più debole per cui nel momento in cui tu non fai più parte di un progetto magari non si sente più stimolata a continuare in quel cambiamento allora in quel caso lì il fallimento tuo personale ma tuo personale nei confronti di questo progetto in cui devi essere il primo a crederci e per lo meno nel mio caso funziona così è il fatto che magari pensi che lei ci abbia creduto e in realtà o non ci ha creduto o non ci ha creduto poi fino in fondo però insomma i dispiacere in realtà sono poi anche altri nella vita perché comunque è un progetto che si chiude fino a se stesso speri e pensi di averle magari riuscito a insegnare qualcosa che potesse essere più funzionale a lei congeniale alla sua immagine ma non sempre va così volevo chiederti un tuo obiettivo un tuo traguardo non ancora raggiunto un desiderio così mi piacerebbe moltissimo realizzare collaborare a un progetto di immagini di costumi di trucchi tutti per il Circo del Soleil che sono già hanno dei costumi eccezionali lì mi piacerebbe moltissimo questo è una cosa che mi piacerebbe fare sarebbe per me una nuova frontiera comunque perché comunque il mio lavoro non ha routine come vedete oggi sono qua domani sono a Tokyo fino a due giorni fa la Roma per il Festival del Cinema questa sarebbe un'esperienza che mi manca insomma in cui potrei comunque molto esprimermi perché comunque sicuramente con artisti di forte creatività impatto visivo mi piace anche un po' giocare di eccesso laddove è possibile chiaramente fare anche delle cose un po' pulite insomma ma la mia firma è anche un po' esasperata anche perché soprattutto quando ha a che fare con lo show come si suol dire bisogna avere bisogna avere degli abiti spettacolari per cui quello sarebbe veramente un grande sogno bene con l'augurio che tu possa farcela direi che possiamo concludere questo momento e anzi ti invitiamo visto che il prossimo appuntamento è proprio quello della realizzazione della sfilata di questa sera che poi in realtà non sarà una sfilata ma sarà un defilé che fa molto più chic anche un panni 90 mi piace per quello vero la parola defilé mi piace e pertanto ti invitiamo anche se hai voglia a darci una mano in questa realizzazione molto volentieri benissimo facciamo un applauso ad Andrea Amara che ovviamente resta a vostra disposizione anche per fare due chiacchiere così se volete adesso siamo un po' nel backstage potete molto volentieri comunque Genova è bellissima in tutto ciò questo esola da tutto questo ma io ero venuto sette anni fa l'ultima volta non avevo visto ho avuto due ciceroni sensazionali sto scoprendo delle meraviglie di questa città per cui comunque vorrò tornarci necessariamente per godermela grazie comunque grazie a tutti